Sì, ecco un'altra dritta per fare i conti senza fare i conti, eh? Quello che è barare, truccare, la cosa che ci piace di più. A quanti secondi equivalgono un'ora, venti minuti e trenta secondi? Allora, io so perché sono un po' malato che un'ora sono tre mila e sececento secondi, per cui sicuramente sarà superiore a tre mila e sececento. E poi so anche che venti minuti sono un minuto su sessanta secondi, dieci minuti su seicento, venti minuti su mille e due, finisce per zero, zero. Perché è importante che finisca per zero, zero? Perché tre mila e seicento finisce per zero, zero, mille e duecento finisce per zero, zero, e poi ci stanno trenta secondi, quindi il nostro risultato finisce per trenta, per forza. Finisce per trenta ed è maggiore di tre mila e seicento. E quindi ci rimane una sola risposta che scrivo, perché almeno scrivo qualche cosa sulla lavagnetta. E quindi sono quattromila, ottocento, trenta. La risposta numero A, senza fare i conti. A volte la risposta è davanti ai tuoi occhi ed è pure giusta.